È stata inaugurata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale la mostra Magazzini Teatrali, a cura dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. L'allestimento propone alcune opere create dai giovani nell'ambito delle lezioni, corredate da relazioni, progetti e disegni decorativi necessari per la realizzazione finale di una messa in scena teatrale. L'esposizione è visitabile gratuitamente fino al 15 giugno. Quando si progetta per il teatro, per la scenografia, per il palcoscenico, si parte da un'analisi testuale, da una ricerca storica e iconografica, si lavora sulle fonti e poi solo alla fine diciamo che qui si vede il progetto concretizzato, l'esito finale, quello che poi verrà visto sul palcoscenico e la fine del lungo iter progettuale arriva appunto con i bozzetti, quindi i disegni di progetto che vedete qua, e i modellini che rappresentano tridimensionalmente lo spazio scenico. Oggi non si lavora più proprio così. Diciamo che gli scenografi oggi viaggiano con i disegni in CAD e con i bozzetti in Photoshop. Però qui si può ancora vedere, potete ancora vedere in questa piccola esposizione, il lavoro diciamo più tradizionale. Ancora la bella pittura, bel disegno.